Gianni Colacione, 30 aprile 2014, siamo davanti a Montecitorio con Mina Welby, c'è un'iniziativa organizzata dall'associazione Luca Coscioni. Mina, di che cosa si tratta? Si tratta di una registrazione per una petizione affinché la nostra proposta di legge sull'eutanasia legale venga calendarizzata, votata o almeno discussa in Parlamento. Più si prolunga il tempo, più andiamo lontano, ormai sono già 229 giorni da quando è depositata il 13 settembre dell'anno scorso qui in Camera dei Deputati e più si allunga il tempo e più aspetto e più mi vengono i dubbi che qualcosa venga fatto. Comunque io non mollo, non mollo, io dico sempre voglio cadere sul campo, anche se certe volte mi sento dentro molto stanca ed è la stessa stanchezza che sento come credo l'abbia sentito Pier Giorgio negli ultimi mesi dove lui chiedeva di essere staccato dal suo respiratore ed essere lasciato morire. Lui aveva tutto il diritto di chiederlo e aveva anche il diritto di essere esaudito dove un medico avrebbe potuto staccarlo e fare quello che ha fatto Dottor Riccio finalmente dopo 88 giorni di battaglia dal 20 settembre fino al 20 dicembre del 2006. Questa proposta di legge, io la chiamo la legge Welby perché è proprio secondo il suo spirito, il rifiuto delle terapie, il testamento biologico che lui già nel 2002 aveva chiesto a Francesco D'Agostino e Francesco D'Agostino dice la amiro per la sua pacatezza e nel modo come lui mi ha proposto questa cosa. Pier Giorgio diceva la solidarietà nella rianimazione è moneta fuori corso. È una parola molto forte, non l'ha detto direttamente a lui ma l'ha fatto in un commento sul suo forum Eutanasia dove anche ha postato tutte le mail di scambio con il professor D'Agostino. Insomma anche il Comitato Nazionale di Bioetica non ha aiutato per nulla a fare poi una buona legge perché anche dopo la morte di Pier Giorgio dove il professor Marino, il senatore, oggi sindaco di Roma, aveva fatto di tutto per unire 11, 12, 13, non so quanti erano di proposte di legge, le aveva tutte unite in una per avere le dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari e le cure palliative per accompagnare il malato fino alla fine. Per Pier Giorgio questo era una cosa scontata che ci sarebbe dovuto essere e invece ancora oggi siamo al punto e a capo e sono passati adesso dalla sua morte, questo è l'ottavo anno dove lui non c'è ma anche le cose non hanno cambiato. I cittadini hanno firmato, sono 79 mila firme che abbiamo per questa proposta di legge, bastavano 50 mila ma ancora stanno firmando sul sito eutanasialegale.it e lo possono ancora fare e lo chiedo di farlo ancora e chiederò anche di firmare la petizione su change.org perché questo dovrebbe essere l'ultimo slancio che ci diamo con l'associazione Luca Coscioni e io in prima fila a chiedere che vengano presi in carico i cittadini nelle loro grandi difficoltà, negli ultimi giorni dove Pier Giorgio diceva la morte mi fa orrore ma la morte fa orrore veramente a tutti, fa orrore anche a quelli che fanno l'eutanasia ma quando non c'è più una vita indignitosa per loro non lo possono dire altri, nessuno può decidere per un altro che cosa è dignitoso o meno ma quando vedono che proprio vivere in certe condizioni non è più dignitoso per loro loro hanno il diritto di chiedere, di essere esonerati dalle ulteriori cure e trattamenti sanitari. Quindi io vorrei che i parlamentari ci pensino veramente perché poi è una legge di cui potrebbe poi e potrà usufruire ognuno anche di loro perché è per tutti noi senza eccezione. Tutti possono fare il testamento biologico, chi non lo vuole fare faccio quello come vuole, lo dica al medico, lo dica ai propri parenti come vuole essere curato o non curato. Quindi però se una persona lo vuole lasciare scritto io credo quando non ci sta più nessuno o non ci fosse più nessuno intorno a loro nel momento quando sono in gravi difficoltà almeno il medico sa come deve procedere, come andare avanti. Ecco io questo vorrei che uscisse per questa legge, una cosa. Seconda cosa, il rifiuto dei trattamenti sanitari è il nostro diritto costituzionale secondo l'articolo 32 della Costituzione che dice nel secondo coma nessuno deve essere costretto a subire trattamenti sanitari se non li vuole. Ma se deve proprio intervenire la legge con una legge per costringere questa persona, cioè per dover fare dei trattamenti non deve andare contro la dignità della persona e questa è la cosa importantissima. E poi c'è la possibilità in questa legge anche di esonerare un medico di essere indagato se dovesse aiutare un malato a morire quando lui lo chiede con un atto eutanasico, cioè somministrazione di una medicina che lo aiuta a morire perché non ci sono più cure palliative, perché il malato non vuole più resistere e soffrire ancora di più. Ecco, anche questo è contemplato in questa legge. Io credo che sarebbe per molte persone una speranza e molti di meno si suiciderebbero adesso, per esempio, sono ogni anno almeno mille e altri mille dove non è andato il porto il suicidio. Quindi io spero che i parlamentari siano magnanimi e accanto ai cittadini, questo lo chiedo veramente di cuore, come Welby lo chiedeva al Presidente e il Presidente aveva detto che lui voleva che il Parlamento mettesse attenzione su queste scelte di fine vita. Grazie, Mina Welby. Grazie.